ciao a tutti quinto episodio allora prima di iniziare insomma diciamone in pausa perché perché il nostro caro amico fanno allora inizia quando ha finito l'episodio precedente volevo guardare per evitare di far figurette come spesso no alla fine non so se si fanno o meno insomma di ritrovarci comunque poi tra virgolette in difficoltà perché non so cosa fa allora fanno mi fai fare un pezzettino tempo di far così è successo questo vai fanno bisogna solo scappare mi sa scappò perché la nostra caramica beh non so se si sente dall'audio comunque è sbucato quella lì che io ancora capisco il nome preciso quella collascia quella collascia che si cipiglia ci ammazza quasi quindi niente comunque inizia diciamo in modo frenetico questo episodio però per fortuna sembrerebbe che il panoramico risolto tu c'è incredibile e subito incredibile ma una pila si è contento ma doveva trovare una pila ma perché te non sei contento no me l'hai bacio a dio comunque qui dentro si ma doveva entrare solo e trovò qualcosa e forse forse anche qui l'importante che l'anno c'è fuori perché siamo sempre l'ultimo genna da dove a sbuata mi sia secondo me invece dicevo una quando mi bisognerebbe invece qualità gira lei come spesso si è dovuto far giro perché lei stava nel punto in cui devi passare lei ti rincorre te la fredda di più per girino non so se ci riesce a far girino e poi vai lì dove è lei ma dov'è? trova un gancio e tu tu trova trova un gancio per sullevare e cancellarlo meno male quando c'è qualcosa si illumina se no saremmo pure nel bottino comunque secondo me vuoi sapere dov'è questo gancio? no peggio dove c'è lei ma lei so assai dov'è? basta uscire da destra secondo me però c'è una semplicità di gancio quando lei è di là ma non c'è nulla però no 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 vai piano perché lei potrebbe essere lì subito spilcia con le due ma lei è sparita ma allora ti posso garantire che è sbuata di me ci credo non ti preoccupare non c'è quel gancio e vedono chi vesti arnessi vesti fave beh venga per ora che andiamoci sia probabilmente è successa cosa si può sapere non c'è cosa che è successa nei video precedenti c'è un carro da spingere una specie di carro comunque ve lo dire se magari uno usa a virgolette guarda questi i nostri video e poi te li guardano come una sorta di guida sappiate che lì comunque c'è lei quella zona di dove vedo male vuoi avere un sacco anche un treno bello qui ci sono tanti ganci si ma c'è lei ma quando si trova il gancio si vede ma non posso ci vuoi questi cittadini la miniera deve esserci in modo per raggi ma dove l'hai stessi vabbè ma le campi alle battute ma che sembra c'è su me c'è una vasta no non arriva tira maio qui è tutto un tira però guarda lì guarda su cosa si illumina il gancio ora arriva lei e mi dà vorrei andare da dove siamo passati probabilmente si vuol dire c'è non io posso dire mai bordaci e balli che si nasconde ma chi si deve nascolare di volata giù vai se ti possi davanti a te succede qualcosa si vola a joyce e ti sentiamo no 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 ma ci passa ora 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 arriva domani io e me questo titolini a quel piano come sono passato ma si è tutto bravo ma piano piano perché l'ansia si fa sentire non ci credo non ci voglio credo vai 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 girati a tre non ci basta sono girati non ce n'è se sono aperte una porta c'è a casa vabbè ho si è visto nulla meglio si no invece bisognerebbe tira tira ma tu cosa devo tirare qui sempre sono morti sono morti se l'è entrata sono morti sono morti perché fanno è velocissimo e è molto intuitivo questa volta è stata abbastanza ma invece ho fatto tutto si a parte che sopravvive è un bacio alla fine comunque si sa cosa fa ma tanto si cambia gioia e si viva ah meno male lasciare allora tutti questi problemi intanto sono morti corri corri cibo bello della merda no 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 così è così no ma potessi morire bene allora si può riuscire eh ma quando li fai quando li fai non salvataggio via prova a tenere joystick vai vediamo cosa può succedere se terno un po' sicuro se non fermiamoci no ecco non senti a seguiti le luci vado attenzione ma cos'è che ci sono le i nuovi pruni ci sono pruni un che nuova ha detto prima un discorso della miniera quindi probabilmente questo è un'altra chiesa le stagione tanto vede mai ah se devi saltare ma si vedeva più strano ma io mamma bello subito c'è scritto jessica 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 che sanno cosa c'è che cosa che fa qui c'è una cosa di tenebrosi un vissichino un vissichino allora fiamma se non sbaglio tocca a te ah si eh si ah vai vai stai scherzando eh ma ho addivolato alla luce ah non c'è un vincendo non c'è la stracolanza vai e non c'è una stracolanza voi 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 noi la visita le grosse la porta dentro, no, guardate giù, guardate voi di lì se ti dieci le puoi dire mamma mia, grazie di te, si è pieno, no non si può aprire c'è una porta, svegliete fuori c'è documento grazie ma io ho, ma cos'è? la altra parte deve essere in un'altra parte Giuseppe aveva lasciato un oto ma è lui che parla! si ma non si capisce ma invece ti guarda tienti cao move it ashì asciu asci asciu asciu oye oye ah c'è un po' di luce o-yo-ye vai luon dashi, vai se c'è quell'altro foglio, che succede avرijke croce mani in mani oh Ry un zio qui mica addosso devo dire è buio troppo buio e vedi quel ritornamento la demo ritornamento la demo un problema che vediamo malari oltre non so con cosa succede quello che si piossa la demo è uguale però voglio andare ci vede dentro di madre che sono ancora più voglia probabilmente sì speriamo di avere le batterie vedi è solo è per momenti come questi o bastano queste preferenze ci si fa nascondere da chi è non lo so dice scritto nascondere ma anche a noi siamo introdotto di nuovo questo è aperto non sto da qui non avevo dubbi faccio letti io ti chiedo molto che io ho insieme ma d'amodino su ultimo no posizionale uscite più per essere tutta la storia arrivando con le scappi da colare debite né interagire ok interagire ciò che ragazzi si calma ok ma vedi che c'è l'impiccati noia ecco ecco ce l'abbiamo fatta si vede da gli altri che spostarlo vedete vedete prima prima no tocca a te ma prima falla andava la finanza non è un'imperdonabile non è molto bene ma non è un uomo sto guardando anche troppo sto guardando io ho sette giri ho io ho sette giri no non fa bene io mi guarderò poi la registrazione col canno vai nel mezzo dove siamo nascati non c'è l'hai l''. andiamo da dritta no non andiamo da dritta non mi ricordo dove dove ce l'unica luce c'è nel coso una uova nel mezzo dove siamo a scala lì bravo vai 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 vedi che crema la porta apri ho sentito del lutto no a te lo devi guardatelo dio e guardi insieme a me io ti giuro che sto guardando vedo la luce bianca che è a te e rossi capri te vi ci dico eccoci girati no no cosa c'è scritto? lavo la luce c'è scritto nulla? no, un bebo chi è che ride ragazzi? mamma oh 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 mamma cosa sta succedendo? si apre? no è chiuso a chiave giriamoci vicino aah 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 l'ho visto devi andare in cura dove vi vedevi dove vi vedevi ora lo rifa? ma speriamo non si lo vedevi mi sono fatto malissimo mi fa così vabbè era contatto a zero se succedesse qualcosa vuoi entrare fuori lì potrei andare lì sperare che rivenga io vi sto solo se vuoi anche guarda su e su guarda ma non guarda ma non guardare su no devi spostare qualcosa e salire carolino si può ecco c'era una cosa da fare lo sapevo ti pare si apre un coso su e hai bisogno per l'accidente del buio ma non credo devi schizzi tipo voi vorne Bueno non Ash però non si cazzano Ma purLY lui si incazza perché è qui perché aveva perso uno schizzo oddio ma chi è? beh l'uomo e' nel fer pol civilizations Cos'è qui? Bacchosa vuol dire? Cosa sta succedendo? Ti vedrei, bruci Vedi? Questo è il prezzo da pagare se non vuole guardare Vedete? Ah ok Io sono un muro Dunque era l'ore eh Nel senso, perchè finora A parte qualche schizzettino Leggera leggera tra virgolette Non c'era preso ancora nulla di Salvataggio Non lo so Ma quasi quasi si Alla stessa Per vedere Ci passa? Sicuramente Devi andare così, ma intanto comunque c'è Vai vai Eh, avevo bello fatto E volevi ecco Comunque Io direi che una volta finito Ho nel senso Una volta arrivati Ho trovato La sponda Sempre che Vabbè Ok Vabbè Tanto si sa cosa si deve fare L'idea è arrivata da andare più avanti Ma il nostro carico Senti ma ha fatto bene Non ha voluto fare Comunque guarda Comunque Niente Vabbè Niente Al prossimo video O ci si trovi O si arriva di là Anzi Si 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 Succede qualcosa Come prima Magari potrebbe venire giù Niente Esattamente Quindi niente Se arriviamo alla conclusione Sono le conclusioni Come ho detto Po' tempo fa Anzi Perché Se ondo barra un minuto fa Se Dio vuole Outlast a farti vedere Qualcosa di Di cosa è capace Di cosa è capace Di cosa è capace Di preciso se è successo E che è Questa c'è sia Anche perché In realtà Lassi su Internet Diretti su Wikipedia O Wikipedia Che in realtà Lui e Lin Che fratto Lin è scomparsa Che lascia da capire Che può Se è successo E Che in realtà Loro cercavano Cioè sono venuti lì Per investigare un po' Su una Donna Che era incinta Scomparsa Jane Do Che fratto si è visto il suo babbo I tunnel dei precedenti episodi Sono varie osi Quindi di ripetere questa Già sia Per me Extra Non sai in più Che ho scoperto Gioando Alla versione comprata del gioco Comunque Sono arrivati Per ora è successo Se vi siete pareti qualcosa Eventualmente Guardate i precedenti episodi E Niente Vediamo chissà poi cosa ci sarà Al di là Ci lasciamo questo Questa terrovia messa Proprio male Sì Perché Staccionati Si Sono messi Via da parte le luzie Niente Per essere a questo episodio Ci vediamo al cesto Al cesto E chissà cosa accadrà Via Via Ci rivediamo Alla prossima ragazzi Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti